E bello a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti a tutti quanti in questo nuovissimo video! Ragazzuoli, oggi siamo su Fortnite in due arena, quindi non saremo da soli, ma saremo in compagnia del nostro carissimo amico Rekins. E ragazzi, non ve lo sto neanche a dire, ma già lo sapete, abbiamo ovviamente devastato la lobby in una maniera pazzesca. Quindi ragazzi, mi raccomando, vi vedete subito a lasciare un bel pollice all'inizio a questo video, iscrivetevi al canale, ma soprattutto molto importante, Vi ricordo che mi trovate in live sul mio canale Viola tutti i giorni dalle 17 di pomeriggio, quindi dalle 5. Quindi se volete passare il tempo in mia compagnia, divertirvi, guardarmi appunto giocare, parlare con voi, sapete che comunque mi trovate in live dalle 5. Il canale ovviamente lo trovate qui sotto in descrizione. Ma ora ragazzi, non perdiamoci in chiacchiere perché dovete assolutamente andare a vedere cosa è successo in questa partita. Quindi ragazzi e ribelli, vi auguro una buona visione! Forse riesco a scendere prima io magari, per adattarmi un attimo. Non tappato uno. Ok, non ho capito da dove. Oh no, sai che il blu per te è qua? No, non t'uccido quello. Bianco come me? Oh, un altro. Oh, mi si è bloccato. Oh, brah! Guarda l'inizio. No, non ti cazzano, non ti cazzano, non ti cazzano. Fini questo se vuoi. Ah, che c'hai? C'è, 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 c'è. C'è una destra, c'è. Ah, io non ho mazza. C'è uno dietro di lui. Te lo fai? Sì, sì. È volato bianco? 25 bianco di nuovo al tuo. Ah, eccolo qua, è nella casetta. 26 bianco, è noccato. Ha paddato. 27 quello che vola. 25. Eh, non lo vedo, tg. Se n'è andato, se n'è andato, se n'è andato. Hanno restato di là, se puoi andare. La gente è da me? Ah, arrivo, arrivo. Vai, chill, vai, chill. Non ho molti mazzi, ma... Ci proviamo! Ehm... Arrivo, volo. Stanno tutti. Stanno tutti, stanno tutti. No, 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 non fa così, non fa così. No, 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 fa così, non fa così. Vuoi aprire il bunker? Sento. Ah, che faccia sì. Oh, il mio merito Oh, il caffè, così, però Passi? Faccio lo snitch, faccio lo snitch Non fa buildare, qua, te Io ho un problema, non ho quanti piccoli Proprio non posso aiutarti con close Edito, 60-65 Morto 180 Mi sa che vi sono andato con lo snitch, no? Vedi una cazzata Eh, non ci ho fatto casa Sì, 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 ma dovrebbe esserci, infatti No, no, non ci ho Mi ha tappato Oh, passi davanti a me Sì, sì, dovrebbe esserci Boxato Vado tirato Ti giuro che mi ha fatto tutto, matto Questa è la prima volta che ha build-up Questa è la mia seconda, tranquillo Ah, ma hanno levato il cesso? O l'hai spaccato tu? No, non si può spaccare L'hanno levato, mi sa Perché l'hanno levato? Eh, boh Ti scappa da cagare Non puoi andare qua, eh Hai colpi di qualcosa, vincerti? Piccoli ER? Si, mi tieni Mi sono messa proprio una chiavica, di gioco Vabbè, un coglione, figlia di puttana Oh, chi è? Sono io col cannone e il pad No, no, è qua, qua Oh, mi spai Oh, ma perché si parla a me? Cioè, manca a fare così però, zio Va bene, ok Ok Stai una paddando Paddando Oh, non so farla Ci vediamo in high ground Uno caduto 24, uno Uno l'avevo rotta Salve da lì Rorto Quasi, quasi noccato qua Ho inventato un beat Che la fai? Dovrei Oh, dove è andato il mio cu... La staffa del mio 329, boxata Ok Sono alcuni che mi avevano tipo sparato da qua ma non capisco Ah, ecco lì C'è una paddata Eh, si, ce n'ho pure una Mi sa che lì perché ho visto buildare tipo di recente con legno Vado Ciao, Ross Morto uno C'è, c'è la caprice rossa che è one shot No, non sono morto Oh mio Dio Cosa faccio? Ho visto la vita GG, GG Eh, un alt pad? No, tu ce l'hai? Sì, sì Mi fidavo di te Dove sei andato da caserta? Boh, andiamo verso là che tanto c'è per forza Non ci parliamo di là Anche di qua, anche di qua Ok, andiamo di là Eh, mi sta hittando troppissimo Io sta quasi vicino Sì, sono dietro di te praticamente Se viene facciamo le flash Vario Distrutto 100 craccato Vorrei ammazzarmi in volo credo Vai, devo ricaricare L'altra è in volo L'altra ha padato L'altra Non prendo un colpa Non prendo un colpa Arrivedo a te Fai un altro team dietro Sì, mi finisce, l'ho preso Poi si è spezzato il collo Dai, il bot E allora, noi avevamo un team dietro Che non so a che fine farà C'era anche quel solo che è scappato via Che palle vorrei un pad? Vedi, l'ho detto Basta chiamarlo Ah, si è buttato uno con il canone fuori 30 Può seguirla? Sì, sì, ci sta Sono due Sì Sta sotto dietro 80 L'altra è rotta Cadono Oh, su vai Devo avere una mano Sono da te Sta sotto di me 120 Spaccato, spaccato Voilà Forse la mozza in volo No, l'R scarico Dai, che culo L'R scarico La gente è anche lì Sotto la scala, proprio Non capisco perché Questa non aveva pure il bianco 33 99, carcato Andate il bianco ancora Ultimo shot manca Però lì proprio manca uno massimo, due shot Vai, ancora il cane, no No, no, no Il cane è scappato Mi sa che l'hai buttato a Tilted però Bianco per l'altro Tu sei che vola È bianco, bianco Bianco, tettuno Sì, spacchiamo il canone Non se ne va più Sai che per il cagnolino È andato È andato, sto cane È ancora lì dietro Sì, se l'ho visto Il piede Però non sembra un cane Dunque l'ho ricraccata Probabilmente che è mai di safe Sì, sì Magari si deve aprire la kill Sì, mi deve aprire la kill Sì, mi deve aprire la kill Ti ho capito due No Allora, è la via Distrutti A uno ho fatto Tilted Inc Più body Faccio cadere Faccio rigadere ancora Allora, sto io Ok, va vicino Io tra di te Ho fatto uno Distrutto Quanto eravamo, tipo 26, forse? Sì, qualcosa del genere Io ho 12 Tu mi sa che andavi tipo 14 Bene ragazzi Siamo venuti al termine di questo video Come avete visto Abbiamo fatto quasi 30 kill In duo Quindi abbiamo veramente fatto Il panico Come sempre D'altronde E ovviamente Spero ragazzi E questo video vi sia piaciuto Peraltro manca sempre meno La nuova season E sono veramente Tanto, tanto in hype Fatemi sapere anche voi Qui sotto nei commenti Se non vedete l'ora Di vedere cosa accadrà Nella nuova season Quindi ragazzi Mi raccomando Se non l'avete ancora fatto Spolliciate più Non posso questo video Iscrivetevi al canale E noi ragazzi Vi ci picchiamo come sempre In un prossimo video Dalla vostra Accurato E questo è tutto Bella a tutti ragazzi